con una moto probabilmente la macchina e sono io basta basta giammo ovviamente non c'è il microfono settato e come te sbagli e non c'è il microfono settato aspetto ario si è sto messo a prendere tutte le cose dario options e microfono grazie option capture no ma ce l'ho l'ascesa del vero re la vera scesa del re toscano il re dell'oscurità basta basta giammo basta con questa storia dio por santo video come faccio a mangiare senza forchetta no dai si veramente che stai guidando tu quando lo scopri no marzo guida te come si fa metti da guida ma chi era il marion che era no basta con questo ossessionato no ma saluta non ce l'ho presente sono pure parlare l'altra volta ok non è vero ma questo è marzone io tutto a posto dario tu si va avanti ti abbraccio forte franco immagino un pochino sì però io sono invincibile come sai del resto quindi ma no perché si sente tre volte a a mi auto sento dario perché mi sento che c'ho il gain nel puzzo aspetta è il gain nel puzzo non ho capito ok si spara marzo un pazzerello quello adesso dovrebbe essere meglio ma no ma dai ma è sempre uguale non hai fatto niente hai solo detto che era meglio no 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 giuro no 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 giuro ah ah mi sembra un po' meglio e ma mi sono perso un pezzo della c'è penso non era oggi si è perché giovedì un giorno strano no ma era oggi però oggi com'è andata bene bene sembriamo no serio ma per capirci ovviamente beh tu il 18 stai con le palle all'aria ve il 18 sono a si con le palle all'aria innanzitutto sono sotto ferri del dentista poi si sono con le palle all'aria bravo vado vado in vacanza e fai bene a farlo un trentino eeeh si fa scendere qualche escort per Agnese e via ma e come è stato? bello bello c'era anche a Marita era anche mamma penso che era la fine venuta mi fa piacere alla fine è riuscita eh li devo sentire hai un paio di problemi con un paio di clienti fortunatamente è buono buono 12 ore ti mancano quindi ho visto si nonna sai che posso essere onesto esternamente è sembrata che sia durata molto molto di meno è andata molto veloce quelle che è ben organizzata tante cose si vero bellissimo organizzata meglio dell'anno scorso si 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 e perchè ti fai scusa però no la vedo un po' era meglio se qualcuno se faceva la notte al posto tuo poi spawnavi tipo di mattina ci avevo voglia è l'ultimo giorno ci sta ci sta ci sta solo che ora sento veramente la la voglia di stare a casa solo che domani devo no dopo domani devo partire per il taranto comics quindi mamma mia ma con quale cura vabbè queste cose le fai bittiche questo aneddoto che voglio raccontare praticamente ehm che il taranto comics mi hanno fatto ovviamente il contratto per i due giorni di fiera ehm prima volta che mi succede in dieci anni ho messo la storia del dente del giudizio che mi devo perà che avevo paura che mi facesse male hanno già pagato ahahahahah a che stai a te perché si sono cagati addosso secondo me che non andavo questa è la mia una mia teoria ma secondo me è quello che roba vabbè ma hanno pagato dopo che hai messo la storia secondo me è per quello si cagano che non vado ma quando te lo derivai il dente del giudizio lunedì ovviamente dipende come ce l'hai messo a livello proprio non è non è problema il dente del giudizio il dente del giudizio è in una posizione strana però ha coperto per anni in una zona del dente da cui ho appoggiato e mi si è formato un buco che è una cosa come il mio uguale spaventoso e ora mi devono levare il dente del giudizio e devitalizzare il dente marcio e poi vado in vacanza al trentino questo è il mio programma alle 11 operazione a luna vado via e vado verso il trentino madonna è brutto sai perché è brutto perché finché altro dovrai salire d'altezza e dopo aver fatto una roba ai denti non è proprio il top del top fare una roba del genere però prendendo una mela si ha sempre un frutto capito quindi puoi anche prendere proprio un succo di pera che ti aiuta tantissimo ok io sì le cuffie un po' meno quindi manco puoi bere anche un goccetto di vino dovresti bere in realtà dopo aver fatto una cosa del genere ai denti ma ne vedizza tanto il vino c'è un po' di riso voce profonda Emanuele voce molto bella però no non mi sto poi adesso non c'è più riso steso cosa vuol dire iki bimma è una gioia ordino glovo glovo due volte non capisco bene una canzone una canzone è andata virale su tiktok tempo addio io vedimi prendo queste cose poi la pubblicità sì poi in realtà è una pubblicità vera e propria che ha fatto glovo che diceva ordine un glovo glovo è andata virale perché faceva era ridicola era praticamente sì no tu sei fuori la questione ma è giusto rimanere fuori quando un re è un re vero e proprio deve rimanere fuori da questa situazione oggi la festa c'è uno che fa da vicino mi fa tanto il vero blu il vero re è blu io ho fatto questi cazzi e lui c'è rimasto malissimo questa mente mi sento di dire un glorioso che personaggi veramente che personaggi incredibili sono strani il re 121 mi riescono a capire un cazzo e poi quando sei tornato in live mi ha scritto è venuto uno primo messaggio in chat adesso che giammo è tornato puoi puoi far tornare le tue live a marcire è una cosa che diceva nooo no ma che cattiveria però è veramente cattivo ma poi il primo messaggio in chat vuol dire che proprio c'è ma anche io devo essere onesto no a me una macchina davanti quando ti diceva questa roba del re non la capisce la gente questa roba me l'ha dimostrato ampio è stata la riprova finale vabbè a me fa ridere deve essere essere no anche a me fa ridere il problema è che l'opatia è ma c'è gente è il pompa mitico no non ce l'ho il pompa mitico ma stava lì ah di come guarda eeeh no manco il medaglione hai preso ma sei coglione ma scusa è vero eeeh si 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 però mi hanno fatto vedere una marea di iperfitti di giro una marea arrivo al primo messaggio sei decaduto ma c'è una donna ragazzi che poi i miei non fanno mai così è strano boh boh chissà che assaggiano ma perché allora sicuramente non sono né tuoi né suoi penso di si esatto esatto e gente a caso totale ma quello ma poi comunque un minimo di gente nella fanbase strana ce la devi ce l'avrai sempre a prescindere ma secondo me tanti erano anche i miei stessi hai passato 8 a 8 mesi della tua vita a cavalcare il meme del re come fai adesso a non cavalcare il fatto che il re non è il re cioè come fai a non generare una situazione del genere ma qui la domanda vera è veramente questa cosa del re era collegata al numero dei sub perché io sì 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 ero passai per tutt'altro tipo ma va ma va ma va quando gli fecero le immagini sì è vero l'immagine sì c'era un'immagine con la corona però no però quello che già era il meme era già vivissimo già da tantissimo tempo sì sì certo 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 però quello è un po' non so consacrato secondo me la storia sì vabbè diciamo che è molto preso come secondo me come we are frogs semplicemente io avendoli e mi avendone veramente tanti il pazzo malato che effettivamente è lì ah 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 zucchiing no se pervenino è pervenino però poi c'è mettersi così a litigha a fai chi è il re che noel penso sia un po' per cose cringe della storia in realtà è passata molto molto in realtà è normale ma c'è mancherebbe fortunatamente guarda sì ma se una persona una serata in discoteca dove c'è l'altro c'era anche delle signori potte vieni lì e mi dici oh il vero re è già marco vuol dire che c'è problemi mentali cioè ma vai a tromba almeno una coltellata tanto vuoi da cioè così era è proprio altair tipo una roba del genere allora lì lì l'avevi reso l'avevi reso epico poi c'era tu uccideva probabilmente vabbè grazie per cosa che succede grazie da un po' per farlo e geni toni matrix giarders droghe sozzi bentornati scusate marzo sta andando veramente nel puzzo completo e non ci sta nessuno mamma mia poi di mattina ti viene qualcuno lì sì ma in realtà le mattine c'è sempre il mase esatto esatto lui dice che le maratone gli hanno cambiato la vita e vuole fare le mattine vabbè che carino guarda mase se vuoi si fa un calcolo ipotetico di sub che perdi ti do i soldi ti pago no 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 vabbè la mattina prestissimo la mattina prestissimo è tipo un tt2 una roba del genere ma peggio lui alle nove fa la colazione col mase e poi te non so se hai mai visto un suo vod no no non mi hai mai capito nulla sfonda la barriera del suono cioè explode proprio cioè tipo buongiorno twitch ma è una cosa che tipo fa tremare pareti insonorizzate dello studio io non so come fa la gente lo odia su twitch perché cioè non può avere quelle energie la mattina vabbè che pazza che cazzo di pazza a me è capitato due volte di dormire in studio e non ci dormirò mai più cioè all'otto è complicato è sicuramente complicato ma che felpa hai della skin ma che skin è questa qua che hai che hai il cane no c'è cos'è sta felpa con tutte le scritte non lo so devo essere onesto ah è di balenziaga me sa è un tipo una collab con balenziaga ma cringe vecchio mamma mia boh però mi fa ride perché è un cane perché ora tu non lo vedi da davanti non c'è un modo per ecco così te la passo con la posa di all might per qualche fantastico eh un metaverso del fortnite sempre eh quarto gioco più streamato del 2023 mi vergogno del mio canale guarda perché ho top 1 giochi belli ma no ha arrivato un commercialista in chat a quest'ora pazzesco ciao cusso eh che dice eh mi calcolava le tasse sui sub che ho preso questo mese grazie ma non avevo bisogno oddio perché hai pagato alla fine eh si è subito poi queste tasse me le pigliano subito c'è roba le scritte sono i nomi degli approdi nella felpa originale ci sono le città del mondo vero va bene ora puoi ripulirti lo smegma intorno alla cappella se riesci e che ma c'è gente live marzo? eh si dimmi quando fai di ti dico la verità non sembrano neanche così terribili infatti non ci sto jumpando addosso quanto è bella la topa però mamma mia sei ragione mojo jojo quanto è bella la fica incredibile secondo me la fica il ficon peccato un ceragnese stasera adesso marzo dietro marzo dietro ma perché mi lagga così tanto ma che è sempre got my call sempre bravo marzo sei bello come una merda zio porco una merda non è che risaputa peste è la cosa più bella del sempre mi fa malissimo questa safe mi fa veramente male inutile fare calcoli tanto ormai dare a più soldi di fedez ma sicuramente una conoscenza maggiore di lui rispetto a internet quindi sono già felice così abbiamo uno dietro diciamo come puoi notare dal medaglio difficile honestamente era una conoscenza migliore di fedez porco dio e questo era quello che c'era dietro ma Bob esattamente a chi si riferiva ma che vuole questo ma che vuole questo max la bestia max la bestia max la bestia eh marzo una partita un po' buttata mi dispiace non sono stato doppia riamissilozza ma poi mi lagga tutta ma che è guardate dietro max bello elegante altro che costruire un gundam con il cazzo enorme su zelda c'è poco da dire sono i gas per i due bellissimo zelda incredibile bel gioco vabbè però c'è una voglia di gioca si che poi ma che c'ho voglia quando uscirà a metal gear sneaker delta domani mi sa delta del perdonate è vero adesso c'è questa cosa e visto che si sono tutti rotti il cazzo dei porco dio di remake allora gli cambiamo il nome al remake diamo un senso comunque al tutto oh marzo uno davanti nel vigneto la beneficenza del nuovo re le elargiazioni le elargizioni pubbliche del re Ciolan per piacere sbatti la testa fortissimo contro un muro se puoi fanno ora ma ti è stato fatto questo è un'altra stupidaggia di disegno a te non interessa ma è giusto ti è stato fatto un come cazzarola si dice un ma marzo non morì eh bravo un dai un che fanno i giornali un articolo sulla beneficenza ma va guarda ti racconto un altro piccolo aneddoto il giorno che ho raggiunto il record mi contatta il mio il mio manager e mi manda un audio e io non avendolo ancora riprodotto ho detto vabbè mi farei complimenti mi fa Dario ciao senti c'è la mamma di un mio amico volevo un saluto per il figlio me lo potresti mandare quindi non credo che faranno un articolo ma no comunque non c'erano fatto quella roba per l'articolo no ma ovviamente per carità del cielo però è sempre curioso gli articoli su su quante sub ci avevi hanno fatti hanno fatto quelli sulla beneficenza fantastico Dario devo confessarti che mi sono masturbato spesso su Agnese tu ma che caga in faccia a te quindi stai tranquillo e te con gli occhialini sotto sai quelli da nuoto quindi che strano si si quindi vai tranquilli marzo ma ne che c'è una cosetta da un'armetta te la sto andando a fare l'arme siamo sei tre team siamo due due v2 v2 marzo non esagerare sei bello come la merda bello mike bravo marzo porca madonna vabbè le lobby per me sono ragazzi dici dopo che te fai e che arriva un po' da guarda guarda quella ti dico la verità ti dico la verità eh rispetto a loro si sicuramente sono molto meno forte però fondamentalmente diciamo che giocando in quelle lobby ah Andre c'è il telegram che ha cliccato tutti i video quindi occhio perché mammona forse non sa però se dici ti Andre mammona 1969 trovi tutto clic ovviamente su telegram al volo boi ma ne state facendo una di filo all'altra ragazzi che videogame player che siamo che mostri sacri incredibili andiamo a fare due quizetti dai teniamo sveglio il Daryong venga io sono a posto mi so boia te boia cazzo dici Marzoni sei tutto sei tutto la te il cervello lo so mi piace oggi stavo guardando un forse lo conosci anche è un ragazzo di Sivola toscano stavo guardando un video dove c'era lui e ha sparato un si va a gioare ma provi a gioare ma non so chi sia poi io Sivola ci chiacchiero pochissimo ci chiacchiero solamente per ok organizziamo sto tour facciamolo abbiamo riempito basta non li conosco Duccio credo si chiami no non conosco Duccio no no Duccio no aspetta Gianmarco mi potresti far vedere la schermata just chatting ho letto delle frasi ma non ho fatto in tempo fai vedere se posso 5 sub un calzino 10 sub felpa via 25 maglia via e poi i pantaloni si per un diciamo che mi sono accostato alle nuove tosse di Twitch che demente veramente che cazzata pochino la stalla la stalla la stalla la stalla arrivo arrivo basta non mi fazzire per favore e come cazzo che devo fare devo mettere sto a destra mamma mia se l'ho diventato un vitello puttana eva devo dire sei ingrassato? ma di brutto eh ma nooo Cristo di Dio ho visto l'universo l'etere a me stanno capitando su Instagram le clip del marzone mentre guida il camion ma sono incredibili quelle clip incredibili possiamo organizzarlo multiplayer quando torni va bene sono incredibili soprattutto alla radio quando ti partono le ose ciao sono lei e sti cazzi poi offese hai visto? si si sono molto belli ma tu oggi ti dovevi fare un giro nella sezione arte di Twitch sarebbe stata una ho fatto un giro ho fatto un giro però evito perché non voglio problemi ho fatto un giro non in stream cazzo vero no ho fatto in stream ma non ho fatto vedere la schermata ah ok no io io non mi sono spinto mai in stream ma non si è visto niente però c'è arrivati arrivavi a 200 spettatori ho visto delle cose che penso mi dimentico forse tra una settimana ho visto proprio lupi lupi donne confiche sparate confiche sparate lupi lupi giganti muscolosi con cazzi enormi che venivano poggiati in testa così più che altro di pomeriggio perché poi hanno iniziato a bannare il pomeriggio a che indicano veramente la tragedia che ridere passi secondo me tornano su loro passi tra due ore si 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 ma è quello che ho detto ma io già avevo detto ieri avevo detto che oggi sarebbe successa questa cosa e poi oggi ho detto che sicuramente possiamo riuscire a un'altra cosa Giammarco Giammarco scusa se ti interrompo Spider Nick ti stai scrivendo una cosa importante ti prego di leggerla Blur vieni su Discord con me ti devo parlare io andrei un attimo ad ascoltarlo magari c'è qualcosa che non va io ieri 5 minuti non ho potuto più parlare perché un ragazzo ha il primo messaggio in chat mi ha fatto se parli sei gay Borda ancora percala miseria oh mannaggia allora che è in quel caso io scrivo in chat quando arrivano e fanno se scrivi sei gay perdi spammo non era con degli amici e tornato con loro tanto domani c'è Nannone ma che sta succedendo no no io non lo uso di blocco ragazzi per i 45 ma non si possono fare ragazzi stanno semplicemente travisando tutte le regole infatti vengono spesso bannate però ce ne sono talmente tante no più che altro Marzono ha detto no facciamo queste regole per non fare interpretare le vecchie regole e hanno creato delle regole che ancora creano problemi sopreinterpretazioni po po beh ma hanno levato Lost mo a gennaio levano il last quote stream cioè qualsiasi cosa funziona viene rimossa ci sta ci sta ci sta ci sta ci sta però hanno messo il treno con l'uccichini eh quindi stai tranquillo capito capito se fai un gioco tipo we were here che last quote stream era tipo perfetta faccia vedere tutto no però il galaxy train te lo becchi tutti nuovi fantastici con i nuovi pazzeschi modi non mi ricordo i cosi quardle ma devi entrare sul tuo cazzo di discord sto entrando dammi il secondo un secondo per ricordarmi c'è la foto eh c'è la foto ma io l'altro non partecipo a questa cosa qua ma io metti i guardi e basta dai sto guardando i streame dai vabbè ma senti su discord almeno fai vedere lo schermo di discord devi vedere il live il pane lo sai è bravissimo ma poi c'è il panetti che doveva venire qua non è venuto no ma è qua sempre nel mio discord non viene però il coglione che dici? mio fratello panetti è veramente il più forte che c'è mi pare una grande bondata con panetti gli voglio un sacco bene un bravo uomo panetti oh mio re mi perdoni per la mia assenza mi farò perdonare con 5 sub domani bravo Giuseppe bravo Giuseppe bravissimo Andrea, Bruno, Giuseppe ben tornati bene grazie per i sub ah ma domani è venerdì si si ragazzi ci vediamo domani in stream mi raccomando ci becchiamo alle 21 eh 21 di venerdì perché venerdì non stream? no no io venerdì di norma stream non ho tutta questa voglia onestamente non so che fa volevo fare il super talk show del Cristo Re cos'è? eh io voglio fare una roba su sta roba voglio madonna come parlo voglio mettere tante persone insieme e discutere un pochino di questa nuova decisione di Twitch sui TOS che poi ovviamente sfocerà in mille altre cose perché la volevo un pochino fare capito donne e uomini visto che di norma poi si creano quelle frazioni solamente che in realtà da quel che ho capito girando non c'è una donna che la pensa pro queste nuove nuove tosse di Twitch ma ho la usa quindi non avrebbe senso non avrebbe senso perché porti senti Kazumi Sen no invece pure lei è contro volevo mettere Kazumi chiede a volevo chiedere a Kibbe particolare che volevo invitare Kazumi secondo me no? vabbè sì no è per sì no per il toglio di capelli e l'intelletto ah ok scusa tutti tutti Kazumi poi volevo invitare Kibbe secondo me è interessante Chris Fitz ok Chris Fitz chi fa l'entai quindi Duce Luna anche così no Luce mi sa è sbagliato Luce Luna io penso che non si chiami così Luce Luna ho detto Luce Luna Luce Luna fai una bella cosa Giammo organizza un concerto in stream di Luce Luna te fai il suo il suo manager e poi la gente paga il biglietto la fai esibire e te Marzone commentate fategli skit tra un pezzo e l'altro secondo me potrebbe essere interessante è un grande evento è sicuramente meglio di quello che ha provato a fare il games week vabbè questo però sei stato cattivo qui è stata brava lei è stata brava è solo che gliel'hanno fatto di merda organizzato non si è capito una sega ci stavano solamente 45 anni che sbavavano era una cosa indecente inguardabile però no tutti Grimbaud così dal nulla lanciato tutti quanti una volta che mi volevo muovere e mettere un po' di di teste tutte insieme però lo farò la prossima settimana forse è meglio almeno c'è anche il maestro per te Marzò se mi esaltavi domani però la facciamo di venerdì esatto no non la facciamo di venerdì tu magari non certe cose cioè pensi dieci secondi prima di dire se c'è Sofia ma non so di che cosa parli o perché ho mai detto nulla mettiamo una palacchia fuori della team speak a nona Sofia nona Sofia di sicuro comunque comunque curo lili mi ha dato mille euro per colpa tua perché 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 c'hai la clip che non è piscia mi invoca poi in realtà lo è in un altro clip di un mod ma come hai fatto a vederla quel pezzo scusa eri live vabbè comunque no perché poi apri tiktok è solo quello da quando mi sono provato a guardare due clip è stato un disastro solo clip di mario bullizzato del naso si si ti hai fatto boh io penso 340 gesti del naso cioè una cosa veramente boh nemmeno io arrivo a quei livelli metti l'81 l'81 ok ok il ton gianna è l'81 è il bufalo è lui come erzo ne sai ne sai bravo e no quindi si però in quella clip dopo che curolilli pensa di aver ragione inizialmente tira un occhiolino eh cosa ti sei segato sopra mi ci sono segato le è venuta veramente un bell'occhiolino vabbè sì ma sì ma c'è bisogno di operati c'è di fatti vedere la castrazione chimica eccolo lo sturnione guarda guardalo che gli sparo uno sniff adesso guarda che il rap gli faccio guarda 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 io c'ho il permesso di fargli questo comando che ho solo io scusa ma non è possibile guarda 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 ma che sta a fare ma dove in stream noi non lo sentiamo che dice ci sta controllando che cazzo guarda che cazzo guardi ma non si è impegnato ormai mai vede i fantasmi è già lì con le montagne ma chi è paranoia e marione che ho scritto in chat un paio di volte però non mi ha guardato stava guardando lì le cose della god league 43 marzo ora mi tocca diventare prima nooo dario nooo si è nooo grazie ma no vado a fare un po' di casino dai dai ti pago di più anche se non sono i soldi che ti muovo 150 mila euro vengo da te dai è l'unica dai allora questa ah vabbè questa è il nikon D3 teoricamente per il grigio questo dovrebbe essere il 70 no questo dovrebbe essere tipo l'82 ecco l'84 sì 86 eh abbiamo già vinto in realtà ammazza è abbastanza prestino per questo tipo di filtro qui 1909 ooooh 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 un cavallo c'è qui c'è anche e poi un soldato un soldato e poi oh guarda questo madonna ma questo come spawna ma sta tutto smascellato no questo ragazzi è seppia ignoranti questo è tipo 20 gemi siete proprio mazza quanto siete ignoranti sui colori delle foto però i colori delle foto parlano parlano alle volte ignorante il bufalo a cena allora flagle 6 shell così il maestro non è non è triste ci dà tanti colori spagna bravo quanto cazzo sono forte sono un baby un baby doll un baby bella ma che c'è? ma che c'è? che vuoi? che stai a dire? stai rispondendo a chat mia no quelli degli angoli nozzi la cosa più brutta del tuo canale non ha senso che la cosa degli angoli sia la cosa più brutta del tuo canale si faglielo sniff al volo no 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 come lo chiamate? sniff di norma? eh punto scalativo sniff regalo la sub a sniff regalo la sub ma è il comando in chat lo so lo so vabbè però vedi che regalo una sub a sniff fammi ragi come come reagisce il naso non si farà più ma perché non te ne vai a dormire pezzo di merda la pilla 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 aspetta volume al massimo metti lo stesso comando sniff di Dario guarda pagiaccio di merda ma va andate a fare in culo tandem della demenza ma che è sta che cos'è perché ho le orecchie a sventola ma solo tu lo puoi fare? ma siamo tornati a testo no 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 ce l'ha solo lui ha detto prima ma fai a fa sta cosa scusa? praticamente io i moderatori mi hanno messo queste impostazioni che solo io posso fare questo comando ma che figata sì ma ci sono tanti altri comandi che puoi attivare ma davvero? sì sì marzo senti al volo per levasselo ha levato l'angolo 137 no marzo 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 questo è 180 perché è un angolo piatto non può essere ah 137 tu dici questo? sì certo ok quindi 160-137 è 260-24-223 vediamo mamma mia no marzo provo 225 per non rischiare no marzo no è risuccesso però non c'è bisogno di dare tutte queste pizze a breve stacchi la stream esci di casa il primo che trovi ti puoi tranquillamente sfogare domani mi arrestano marzo male dai indovina parola dai dai indovina la parola dai cos'è dai? oggi mi sono visto Dario dimmi una parola con 5 lettere Dario no non è capace non so aspetta che c'è una cosa non mi torna vai dicevi Gianmarco no mi sono rivisto mi sono rivisto il il riassunto della giornata 6 della maratona mi ero io non so perché ho avuto un blackout su il pistacchio non me lo ricordavo ah si è incredibile quella cosa bellissima è proprio piaciuta è il pistacchio molto molto carina molto carina pista 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 carte marzo carte dai carte madonna che schifo che bello dai che bello Dario no Dario il calcio bingo 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 dobbiamo usare le lettere oh vedi pistacchio 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 dietro bruno andrea digio flirpo giuseppe bentornati boys bentornati allora che cazzo di uri sono sono ok sono bello rivederti tu che esci nozi cosa ci fa nella mia chat con chi ti scongiuro guarda come c'è la coca shong vuoi venire a chiacchierare la prossima settimana coca shong si facciamo una chiacchiera questa cosa che ti stai a prende a tutti è molto bella però non è necessaria proiettarla su tutti capito Gianmarco se no poi da ah ma ha fatto un ride Mario mamma mia che cringe Mario top cringe eh se vieni sul server Tomodaci c'è ancora panetti tra l'altro quindi se vuoi vieni grazie al capo non so cosa sto marzo mi sei scollegato al cervello che vero vero pu che dici coca tutto a posto capelli come li facciamo domani cambiamo colore facciamo un biondino tendente a rosa poi prende appuntamento per il settimana prossima si fa un rosso che però vira sul bordeaux dai cambiamo personalità facciamo vedere questa personalità come sonda leggi 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 e la ho precisamente dov'è in leggi Marzo coca mobile satellite ma che parola è rocket launcher e elogi iron lizard sono su discord per salutare sto affuso dove sei arriva Mario arrivo su vado a salutare l'altro assolutamente si ciao bello di casa ciao ragazzi ci sentiamo in questi giorni ciao Dario comportatevi bene assolutamente si non ci sentiamo tornato non sono tu va va